La battipagliese in 1929 rende noto di aver attesserato il calciatore Jacomo Prima Dei. Nato a Battipaglia nel 1993, Prima Dei è un portiere che ha meditato per 5 anni nella battipagliese e ha, inoltre, maturato esperienze con le casacche di Real Stella, Olympic Salerno e Polisportiva Paolo Monte. La battipagliese ha dichiarato Prima Dei al momento della firma «Credo che non ci sia niente di più emozionante e bello che giocare per la squadra della propria città. Prometto di dare tutto me stesso per questa maglia che va onorata e sudata sempre».